Vice sindaco avete con una nota congiunta tra lei e ovviamente il sindaco Ginelli manifestato questa disponibilità al richiamo tra l'altro in una situazione di emergenza che aveva fatto il prefetto con una riunione in prefettura ma soprattutto avete addirittura ringraziato la Fraternita per questa disponibilità. È uno strappo alla regola nel senso che Fraternita dal 2015 su indicazione del sindaco Ginelli di allora e quindi di ora è uscita dal circuito dell'accoglienza. Oggi è una situazione estremamente urgente e fa parte di una particolare condizione di emergenza umanitaria quindi Fraternita non rientra nel sistema dell'accoglienza ci rientra in questo particolare momento in maniera molto circoscritta perché nel 2023 cioè ora rispetto allo scorso anno ci sono il 150 per cento di sbarchi in più 50.000 circa persone che sono sbarcate o stanno sbarcando nel nostro paese 3.500 in Toscana 350 nella provincia di Arezzo. Allora di fronte a un prefetto che a sua volta ha ovviamente un input a livello nazionale che chiede un atto di responsabilità quindi per noi un'aderoga rispetto a una regola è chiaro che le istituzioni rispondono di sì. Che per la Fraternita i numeri si fermino qui mi sembra chiaro per il territorio invece del comune di Arezzo avete individuato pensate di individuare altre strutture altre sistemazioni? Ma noi abbiamo seguito l'indicazione del prefetto che peraltro era stata data anche a livello di prefetti di tutte le province dei sindaci di comuni capoluogo dove i comuni avrebbero in qualche modo sollecitato in maniera attiva senza essere protagonisti in questo anche altri luoghi dove poter accogliere queste queste persone che ripeto arrivano. Vorrei evitare di fare quello che è successo a Pelago cioè di mettere le tende Pelago un comune della provincia di Firenze non ricordo ma mi pare Pelago quindi non si tratta di decidere se sì o se no si tratta di decidere come rispetto a un quantitativo che potrebbe oscillare intorno a 350 quindi il comune ha dato una disponibilità eccezionale con Fraternita che finisce qui ma che è quella e non si tocca. Rispetto al resto saremo protagonisti in maniera indiretta ma certamente presente per trovare nuove soluzioni che siano fuori dal circuito di Fraternita ma soprattutto per trovare risposte che affianchino i gestori nella presenza di queste persone con la finalità di una presenza che sia il più la più breve possibile e finalizzata laddove c'è necessità ad un rimpatrio non comunali non fraternita nel tessuto della città però questo è più facile che un vecchio gestore ce le abbia piuttosto che il comune. Una cosa l'ho detta l'altro giorno da una riunione che ha fatto il comune di Arezzo successiva a quella fatta col prefetto non un euro in meno ai bisogni degli aretini cioè questa per noi è un'emergenza internazionale di tipo umanitario non sono politiche sociali. grazie grazie grazie